Ben trovati da TG della mobilità, potature in corso sulla corsia tramviari di via Prenestina, tra Largo Preneste e Piazzale Prenestino, sino alla conclusione dei lavori tranne il sabato, domenica e festivi, modifiche sono previste per le linee 81, 412 e NMC, bus apposta dei tram sulle linee 5 e 14, navette sostitutive anche per la 19, solo tra piazza dei gerani e porta maggiore. Sabato dalle 10.30 in piazza dei Santi Apostoli, manifestazione nazionale per la sicurezza stradale promossa dalla rete di associazioni Vivi in Strada, l'evento dal titolo La guerra ignorata vuole richiamare l'attenzione di cittadini, istituzione e media sulla gravità degli incidenti stradali, solo nell'ultimo fine settimana, secondo dati ASAP, sono state 30 le vittime causate da incidenti. ASAP